Ciao amici da Johnny Noleggio Biciclette in tutta Italia, oggi sono qui al Lido di Venezia Situazione fantastica Siamo al Lido, vedete Niente, chi avesse bisogno di biciclette a noleggio In tutta Europa Deve cercare Johnny Noleggio Biciclette Oppure mi chiamate al 327 84 90 555 Ripeto, 327 84 90 555 Io vi noleggio la bici per un anno, anche per sei mesi, per un mese, per un giorno Poi la bici, se la prendete un anno Alla fine potete anche riscattarla e diventa vostra Anche se è elettrica, normale o anche come questa, una semplice bici da 200 euro Dunque ne parliamo eh Ciao